Buonasera e benvenuti, benvenuti a Tichitaka Russia, benvenuti al mondiale. Dietro a qualsiasi tramonto, dietro a qualsiasi notte c'è una ripartenza, c'è un'alba ed è quella che sta provando a ricostruire Roberto Mancini che presto sarà ospite qui a Tichitaka Russia. Un lavoro non facile. Oggi la speranza si aggrappa a Roberto Mancini che ha già addirittura preso la forma della Gioconda e del David ma soprattutto ha deciso di ripuntare su chi per ultimo ha regalato quella gioia immensa che intere generazioni non vedono l'ora di riprovare il prima possibile. Oggi la speranza si aggrappa a Roberto Mancini che ha già addirittura preso la forma della Gioconda e del David